Come valuta la data dell'8 dicembre che era considerata la scelta e la data un elemento discriminante? Io ho sempre detto che prima si faceva il congresso meglio era, addirittura a maggio avevo proposto in modo olle di farlo a luglio, quindi va benissimo l'8 dicembre. L'importante è che questo percorso sia vi, la nostra gente ha voglia di partecipare, di discutere, di decidere. Sono convinto che ne verrà una bella discussione e che rilanceremo il progetto del PD. 10 e 42 minuti, Luca eccoci. Buongiorno anche al nostro mitico analista, cronista, il nostro Tommaso Labate per chiedergli che valutazione... Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. ... dell'assemblea di venerdì e sabato, perché noi abbiamo sentito Adinolfi che dice ma no, hanno un po' discusso ma poi si uniranno e marceranno con patti e comuni, invece tu che pensi? Probabilmente succederà questo, io ho fatto una notazione di carattere personale, sabato ero fuori Roma in un posto in cui c'erano internet e niente, ho praticamente la prima volta, da tanto tempo appreso le notizie, leggendo i giornali, un giorno dopo non ho capito praticamente nulla di cosa verrà successo. Quindi il solito caos interno del PD e la solita variabile, le solite due variabili che incidono su di esso che sono A. Silvio Berlusconi, B. il governo. Il congresso si giocherà soprattutto su questo. Secondo te lo scontro con Letta e gli avvertimenti che Letta ha dato, le battute di Letta con Trenzi, sono pure schermaglie che si risolvono poi in un abbraccio, in una corsa in cui uno fa il numero uno e l'altro il numero due? No, non penso, loro rimangono secondo me tutti orientati, è una sfida finale che sarà proiettata secondo me non adesso ma al 2015, perché il governo soprattutto beneficerà per tanto poco che conti degli effetti che sono positivi sul governo italiano nelle elezioni tedesche, cioè di un quadro stabile che porterà Merkel a fare il governo con le SPD e fisiologicamente il PPE e il PSE a riavvicinarsi e di tutto questo essendo un po' una delle malazioni in questa situazione, anche il caso italiano Letta secondo me beneficerà. La vera sfida secondo me sarà tra Renzi e Berlusconi, se alle elezioni europee la forza Italia di Silvio Berlusconi nuova riuscirà a prendere un voto in più del primo partito democratico targato Renzi, se così fosse e dentro il partito democratico sarebbe un problema non da poco, perché tutti sarebbero la fila da Renzi, ma dove erano i voti del centro-destra che dovevi prendere? Quindi la madre di tutte le battaglie, per quanto poco o tanto che contino l'elezione europea, sarà la sfida tra Berlusconi e Renzi, tra Forza Italia e Lopiti e per vincerla secondo me o per provare a recuperare consenso, Berlusconi essendo quella una sfida in cui ci sono le preferenze, in cui va scritto il nome del candidato che il cittadino sceglie, ha più di un'opzione, si candiderà qualcuno con cognome Berlusconi in tutte le circostruzioni, Piaessa, Marina, Barbara, Pippo, Topolino, sarà un Berlusconi candidato in tutte le circoscrizioni nel viso di Forza Italia, come molto probabilmente ci sarà anche Renzi che farà da traino con le preferenze al suo partito, sarà lì che si gioca la sfida. Ma tu sei convinto, solo su questo ti chiedo, sei convinto che si voterà alle europee prima che alle politiche anticipate? Assolutamente, assolutamente, sono convinto, non si può mai essere, ma sono molto sicuro che le elezioni politiche non si terranno prima del semestre di presidenza italiana per l'Unione Europea. Quindi il vero test sono le elezioni europee, dici, il Napolitano non può votare. Ma non è la questione di andare a votare, di non andare a votare, ricordiamoci sempre che la sovranità popolare è un popolo che la esercita nei modi previsti, nei tempi previsti dal tipo 1 della Costituzione, e che c'è, è reale o vettuale, una maggioranza di eletti, sia alla Camera che al Senato, che sono contrari alle elezioni anticipate o che potrebbero diventarlo in prospettiva. Questo è l'orizzonte su cui dobbiamo ragionare, per cui non esiste una maggioranza parlamentare a favore delle elezioni anticipate, esiste una maggioranza parlamentare in entrambe le Camere, secondo me molto più robusta di quella che sembra attualmente, che è favorevole al mantenimento di vita della legislatura. Questo conta. Come finisce nel partito? Sempre ti dico a Marione, diceva si dividono, alla fine Letta andrà al partito e Renzi a Palazzo Chigi. Ma io non penso che succederà, potrebbe anche succedere questa cosa qua, io dico che adesso Letta andrà probabilmente Presidente del Consiglio, Renzi farà il segretario del Partito Democratico. Ovviamente, visto che in politica contano i numeri, Renzi dovrà dimostrare alle elezioni europee di essere in grado di sopravvanzare anche non di poco la nuova creatura guidata da un Berlusconi e frenata da un Berlusconi, chiunque esso sia come candidato. Se Renzi la fila, a quel punto il problema non si porrà, perché se Renzi fa mangiare la polvere, come si direbbe in un gergo automobilistico o dell'Ippica, a Forza Italia sarà evidentemente lui il leader naturale del centro-sinistra alle prossime elezioni e quindi tutti i temi sulla collocazione di Letta si affronteranno, ma saranno visti con una prospettiva molto meno cociente. Se invece Renzi avrà difficoltà contro Berlusconi, si riaprirà dentro il Partito Democratico quella contesa che si è sempre riaperta e non appena il Partito Democratico ha perso qualcosa, con Veltroni, con Franzi e Schini e anche con Bersani. E dall'altra parte vi chiedo, c'è il punto di Sallusti, oggi l'editoriale sul giornale, scrive di Forza Italia che non deve sbagliare mosse e tempi, scrive Sallusti che non è difficile, basta stare fermi sulla posizione di sempre, niente nuove tasse con noi al governo e aspettare sulla riva che passi il cadavere di una sinistra arrogante, violenta eppure pasticciona come sempre. Napolitano proverà a salvare i compagni di sempre, lanciando loro un nuovo salvagente, ma credo che questa volta non ne abbia a sufficienza. Insomma, detto appunto, Tommaso è stato anche abbastanza chiaro sul fatto che ci sarà un Berlusconi nome in tutte le circoscrizioni, come si è ammessi dall'altra parte? Dall'altra parte c'è ovviamente una contesa che va vinta dal punto di vista elettorale Berlusconi che è un leader molto ancorato a quello che gli dicono i messaggi, i sondaggi, sa perfettamente che il PDL rispetto al partito cardine del centrodestra le elezioni ha praticamente quasi 10 punti in più, cioè il PDL sostenente la larghe intese ha 10 punti in più del PDL del centrodestra, il PD sostenente la larghe intese ha comunque 3 o 4 punti in più del PD che si è candidato insieme a Stel. Le opposizioni dal Movimento 5 Stelle a Stel passando per la Lega hanno tutti i voti in meno rispetto a quelli che hanno avuto nei sondaggi, rispetto a quelli che hanno avuto alle politiche e questo perché? Perché al di là di come governano il Partito Democratico, il Partito Popolo delle Libertà e attualmente Forza Italia, è evidente che queste due forze politiche catalizzano l'agenda mediatica ma anche politica di tutto il resto, cioè come se divorassero tutto e anche andando male occupano spazi che comunque le opposizioni e voci dell'opposizione non riescono quindi a far sentire. Detto questo, l'evidente posizionamento strategico di Forza Italia secondo me è quello che porterà Stel. Berlusconi a più miti consigli rispetto al governo, c'è pungolamento continuo, eccessivo, costante e naturalmente gli porta bene perché con questo ha ottenuto l'IVA e molto probabilmente otterrà che l'Imu e molto probabilmente otterrà che non venga aumentata l'IVA, ma sempre diciamo di un orizzonte che contempla la presenza del governo e non lo scioglimento anticipato dalla notiziatura. Se vuole Filiare Renzi, Berlusconi un appuntamento ce l'ha e a breve, come dicevo, sono le elezioni europee. Malgrado, secondo te, le minacciate di emissioni di Saccomanni non produrranno l'aumento dell'IVA? Beh, pare che ieri ci è stato giocato un accordo, l'Essa e Saccomanni avrebbero fatto il punto e che siamo entrambi d'accordo sull'allarme di Saccomanni, ma che l'aumento dell'IVA potrebbe essere scondurato. Vi dico che l'allarme di Saccomanni va preso molto in serio, perché Saccomanni non è il solito ministro dell'economia in cui il ministro dell'economia, quando nel 2000 venne fatta la famosa rinforma di Bastanini che ha sommato praticamente in un solo uomo il bilancio, le finanze e la programmazione di spesa, praticamente è il dominis del governo. Questo dominis del governo esercita solitamente, come è stato con Tremonti e anche con Padua Schioppa, questo suo potere attraverso una, chiamiamola così, ideologia. Saccomanni a differenza loro non è soltanto che cosa pensa, ma anche chi è e Saccomanni in questo momento è il braccio di collegamento tra la Banca Centrale Europea e Palazzo Chigi, quindi le sue dimissioni minacciate per la prima volta a fronte delle centinaia di volte che le hanno minacciate Tremonti e delle decine che li minacciò Padua Schioppa, sono un tema che va preso molto in serio. Tutti hanno consapevolezza che se salta Saccomanni salta il governo, proprio perché la ragione di questo governo, quindi si troverà, secondo me, dovranno trovare una soluzione a provare a tirare di meno, sull'Imu d'altronde l'hanno trovata, hanno trovato una soluzione che sta molto di macchiavici, visto che è arrivata da ServiTax, ma che apparentemente alle forze politiche ha fatto bene. Succederà così anche sull'Iva, secondo me. Dicevi Luca? No, dicevo che proprio quello che dice Tommaso è questo, che dietro Saccomanni c'è Draghi, è come se l'avesse detto Draghi e la vittoria della Merkel, che è la vittoria non dell'SD, ma è la vittoria del rigore temperato, non lascia uno spazio per nuovi sconti. Noi questo punto d'Iva non ce lo possiamo permettere, lo dobbiamo far aumentare. Ho l'impressione, ce lo chiede Draghi, non è che ce lo chiede Saccomanni. Certo, Saccomanni, questo è pure vero, però, ripeto, secondo me una soluzione, o anche un escamotaggio che questo governo sarà durato di trovarne molto, secondo me si troverà senza arrivare alla crisi. Perché è vero che Draghi chiede che aumenti l'Iva, e dal punto di vista suo è anche sacrosanto, perché si è scelto di mantenersi sopra il cuore della procedura di infrazione, quindi sotto il petto del 3% tra deficit e PIL, quindi fatta questa scelta ideologica, tutto il resto ne contembe. Ma la vittoria della Merkel, che non è il fatto che questa vittoria non si è tralata con l'autosufficienza della Merkel, ma che abbia bisogno di voto dell'SPD, produrrà secondo me un temporamento alla politica standard della Merkel che la Merkel cerca anche. E' un rasterinamento della stabilità europea che l'Italia a quel punto non può permettersi di rompere pena, secondo me tornare nei guai. Ovviamente tutti sono sempre riconducibili alla democrazia, alla sovranità popolare, ma siamo sicuri che tutte le forze che in questo momento si ruole e che all'interno dei partiti agiscano per rompere questo quadro prestabilito, vengono premiate alla fila degli elettori. La storia al momento ci dice di no, perché tutti i partiti della malinanza hanno più voti virtuali rispetto a quelli che hanno preso l'elezione e tutti i partiti dell'opposizione nessuna esclusione hanno di meno. Ti do solo l'ultima palla perché poi ti liberiamo e andiamo anche noi nel nostro break. Giorgio Mussolini ha fatto questo tweet, 2013 Italia PD 25,4, 2013 Germania SD 25,7, vuole dire che c'è qualcosa di più che va oltre i leader e le singole mosse, c'è una sorta di crisi del centro-sinistra europeo che lo tiene sotto le percentuali del consenso largo. Sì, io non so se è vera questa cosa qua, ma fosse vera questa analisi, Renzi avrebbe commesso un errore storico a candidarsi alla guida del PD, avrebbe fatto bene ad aspettare la partita grossa quella per prenderci e per non rimanere invischiato in un quadro che potrebbe essere di crisi del mondo progressista. Il caso però più clamoroso rispetto a questo tipo di ragionamenti che facciamo è che il PD, lo stesso PD che nell'assemblea di sabato ha dato la solita immagine di un partito pasticciato, diviso, cacciarone, si ritrova tolto il labor party, probabilmente ad essere quello che sulla carta al momento è il partito progressista più forte di Europa. Ed è una roba, se ci pensate, allucinante. Il PD che non riesce a trovare una quadra su uno statuto, un tema che definire ridicolo in questo momento di crisi economica è poco, si trova tolto il partito di Miliband in Gran Bretagna ad essere l'agglomerato progressista più foli, più solido d'Europa, perché abbiamo visto la crisi del PSOA che comunque non riesce in Francia nonostante gli scandali del Partito dopo parlare del primo turno, il socialista e i francesi, il PD nonostante tutto rimane ancora dopo il labor party il più solido, che è un caso di scherzo del destino della politica e della storia. E' che questo dipende dalla mancanza di avversari? Secondo te Tommaso? Questo dipende dal fallimento secondo me in parte di quello che si è mosso a sinistra del PD, dal fallimento della prova decisiva che era quella del governo del Movimento 5 Stelle e anche un pochino da delle congiunture storiche che è possibile ricostruire a tavolino. A questo non ci avevi pensato Luca, al PD in chiave europea messo così bene? No, no, ci ho pensato proprio che ho letto questo messaggio di Pietruccioli perché mi ha colpito questo, come se noi discutessimo di Renzi, di Lesta e di tutto, ma ci fosse un segno più grande. Ti dico di più, lo svuotamento dei liberali, lo dicevo prima, che passano dal 15 al 4,8, secondo me prefigura quello che accadrà al gruzzoletto della lista Monti che è già passato dal 10,8 al 5% nei sondaggi se riesce a riprenderlo. In ogni caso la Germania ha dato un voto di forte stampa europeista perché ha la Merkel vincitrice ma non autosufficiente, a cui si assomma un spedè sconfitto ma decisivo, a cui si mettono a parte un ottimo successo della Linke e una buona affermazione dei Verdi, si crea un modello delle larghe imprese come sono conosciute negli ultimi anni nei paesi d'Europa con una catturazione, un'opposizione molto chiara. Esatto, però lì c'è una variante che siccome molti partiti sono rimasti fuori, la Merkel forse avrà la maggioranza assoluta anche senza avere la maggioranza dei voti. La Merkel non ha l'interesse, la questione secondo me è fisica o aritmetica in politica, secondo me alla Merkel conviene più un patto di legislatura con la SPD e una maggioranza di cento e parte parlamentari che sbiorare la maggioranza assoluta di poco, anche perché a differenza di quanto accade in Italia non si metterebbe, nessuno metterebbe in dubbio, non lo mette nessuno in dubbio il fatto che debba essere guidato il governo, a differenza di quanto è successo in Italia, Steinbrück si è chiamato fuori, ha detto che in ogni caso lui non prenderà incarichi di governo, i politici sono riusciti a fare dei passi indietro e dei passi in avanti, tali a stabilizzare un quadro e la Merkel è diventata la Merkel, non dimentichiamolo, soprattutto i due momenti chiavi della storia, quando riuscì a soppiantare Cole negli anni 2000 alla guida della CDU e soprattutto la prova vera di governo, l'ha data col governo in alcune intese, più che con la mostra dell'asterità che è stata conseguente a quel successo politico, quindi secondo me lei avrà tutto l'interesse a fare un governo con le spede di largo respiro, con un vincolo in legislatura, che non raffazzonarsi quei 4 o 5 voti in più che le servono per essere autosufficienti al Bundestag. Grazie, salutiamo Tommaso Labbate, caro Luca, ci fermiamo anche noi, ci fermiamo anche noi per il GR, sono le 11, 1 a 1 il derby, segna, 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 tra poco. Io credo lungo, ma non meno, di fissare la data con lo svolgimento finale del congresso per l'8 dicembre. Sulla data indicata dalla segretaria? Qualcuno ha parlato di vergogna? Ma niente, sono venuti per le regole, non ci sono ancora le regole, non c'è molto da dire, da aggiungere, domani mattina speriamo che ce le dicano, anche la data è in provi, dall'8 dicembre una festa religiosa, Milano è collegata alla festa di Sant'Ambrogio, iniziano shopping natalizio, non lo so, a me sembra veramente tutto così particolare. Cioè si è alzato un brusio in platea al momento dell'annuncio della data? Sì, ma non ci sono stati neanche gli applausi, cioè è un partito che deve essere rilanciato, non mortificato.